Sì, sono sentito un campione in un paio di occasioni. Una avendo successo nel lavoro, che anche se sono giovane e sto lavorando è che di questi tempi mi sento molto fortunato. Mi sento un po' campione tutti i giorni quando mi riesce di fare qualcosa. Quando mi sono sposato, io ho avuto i miei figli. Fare qualcosa che ti rende speciale. Quando ho preso il brevetto da pilota. Due anni fa sono uscita da una malattia gravissima e quindi io sono una campionessa. Il censimento della popolazione è importantissimo per sapere quanti siamo e come siamo e ognuno deve fare la sua parte. Ognuno deve partecipare, deve essere campione a suo modo perché l'Italia ha bisogno di campioni per costruire il suo futuro. E allora manifestazioni importanti, popolari, in cui l'Istat si fa conoscere, fa conoscere quanto è importante la statistica ufficiale, è assolutamente indispensabile. E lo invito a tutti coloro che fanno parte del campione a rispondere. Io lo vedo come un dovere civico che ha ogni cittadino. Noi siamo allo stesso tempo produttori di dati e fruitori. Buone statistiche danno buoni risultati e tutti ne possono usufruire, li possono utilizzare. A rispondere al censimento è importante perché la statistica pubblica è l'informazione pubblica di qualità, affidabile, che ci consente che le decisioni nel nostro paese siano prese sulla base di evidenze misurate. Seguire le proprie passioni. Crederci sempre. Essere felici. Guardare sempre avanti e non smettere mai di sperare. Credere in se stessi e puntare a dare soddisfazioni o a se stessi o a qualcun altro a cui si vuole bene. Rispondete al censimento, rispondete per tempo, rispondete bene. Noi comuni siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.